Aguato a colpi di fucile e pistola nel centro di Sandonaci nel Brindisino. Un ragazzo di 29 anni, Antonio Presta, è stato ucciso intorno alla mezzanotte davanti alla sala giochi del paese. Sul posto, nelle foto di Brindisi Report che vedete, i carabinieri hanno trovato tre cartucce di fucile e diversi bossoli di una pistola. Presta aveva precedenti penali per rapina compiute in Emilia-Romagna. Suo padre, Gianfranco Presta, tra gli anni 80 e 90, fu uno dei luogotenenti di Pino Rogoli, fondatore della Sacra Corona Unita e successivamente collaboratore di giustizia. Secondo una prima ricostruzione, Antonio Presta era seduto davanti alla sala giochi quando è giunta una vettura dalla quale sono partiti diversi colpi. Il giovane avrebbe tentato di sfuggire gli aggressori, ma è stato finito a poche decine di metri più in là. Antonio Presta e il padre, Gianfranco, fino a qualche anno fa erano residenti in Emilia-Romagna, dove hanno subito varie condanne per rapine e furti d'auto.